Ciao Paolo, volevo farti tanti auguri, soprattutto un grandissimo in bocca al lupo per la nuova avventura, per la scuola calcio che stai aprendo. Ci vuole tanta pazienza, tanta voglia di lavorare con i ragazzini. So che tu sarai in grado di farlo perché sei sempre stata una persona paziente e brava, soprattutto competente. Quindi davvero un grandissimo in bocca al lupo da Lorenza Moruso. Ti voglio bene, ti abbraccio e davvero forza e coraggio. Ciao a tutti, ciao ciao.